Mano pesante del Tribunale federale nei confronti del Taranto, che è stato penalizzato di quattro punti in classifica e al momento si attesta in sesta posizione fermandosi a 49 lunghezze. La società infatti ha dato la colpa a proprio sistema informatico per non essere riuscita a pagare alcuni contributi di dicembre. La procura aveva dunque chiesto due punti di penalizzazione, richiesta accolta in prima istanza, alla quale però è andata a sommarsi la mannaia proprio del Tribunale federale nazionale, che ne ha aggiunti altri due, perché sarebbe saltato pure il pagamento di una rata del debito concordato a suo tempo con l'Agenzia delle Entrate. Si tratta del famoso decreto salva calcio, la squadra di Capuano ora potrebbe vedersi annullare la rateizzazione che era già stata accordata, mettendo in serio pericolo le casse del club. In attesa oggi intanto c'è anche la Turris, che, gravata da un'ingente mole debitoria, ha chiesto al Tribunale di Torre Annunziata di poter depositare una domanda di ristrutturazione del debito o, in alternativa, una domanda di concordato preventivo. È stata chiesta inoltre la concessione di donne e misure protettive sul patrimonio, per evitare che uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolarizzazione della crisi e dell'insolvenza. Il futuro si chiarirà dunque, solo e soltanto, nei prossimi giorni.